Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Pisa. Sulla FIPILI per lavori, in direzione Firenze, coda tra Empoli Ovest ed Empoli Est. In direzione Mare, code per incidente tra Bicarello e il Bibio per la A12. Sulla corda autostradale Siena-Firenze, per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata, in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo, tra Poggi Bonsi e Tavarnelle. Sulla Statale 223 di Paganico, chiuso il tratto all'altezza di Campagnatico, in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.